Gli aggiornati passare alla prossima Cile d'assalto trovato Cambio zona Tutte le tasse di scorte provate, ottimo lavoro Qui ci sono munizioni Contatto Cambio posizione Siamo nella zona sicura Preparatevi Vedo movimento Buon appetito Amico in volo Amico in movimento Amico in movimento Grazie Vedo un movimento. Vedo un movimento. Vedo un movimento. Avanzo. Vedo un movimento. Vedo un movimento. Vedo un movimento. Vedo un movimento. Meno che si chiama fine con prima che patta. E' tutto nelle tue mani E' tutto ciò che c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.